Allora amici e amiche del canale morbidosi e morbidosi vi volevo far vedere oggi i miei pulcini che sono un misto di marans che fanno le uova più scure del guscio più duro quindi difficilmente attaccabile dalla salmonellosi e le altre sono praticamente galline polletti della razza australorp che comunque sono da carne io non li mangerò ovviamente li tengo per le uova e per la riproduzione qui ho messo una casetta delle maremmane che avevo di quando erano cucciole tanto non la sfruttano loro preferiscono dormire lassù la cenere ed eccoli qua allora i galli marans i pulcini marans vengono riconosciuti facilmente perché hanno delle piume sulle zampe tipo questa bianca che è come varietà splash poi ci stanno le blu ramate le nere ce ne sono diverse diverse categorie insomma quelle col collo rosso dovrebbero essere sì quelle ramate ecco qua scusate messa a fuoco ecco qua vi faccio vedere stanno entrando e uscendo perché gli ho messo la casetta adesso quindi la stanno perquisendo per la prima volta per vedere se gli va bene come riparo ovviamente queste per il giorno per la notte ancora stanno dentro casa perché mi deve arrivare un cortile chiuso perché altrimenti sarebbero facile preda di faine di topi di volpi cinghiali eccetera eccetera che qui purtroppo essendo campagna ci sono ecco qua vedere ancora anche se sono così piccoli spesso si attaccano fra di loro ecco qua fanno il giro adesso il cortiletto è piccolo ovvio ma è soltanto momentaneo ed è soltanto per il giorno come stavo dicendo per il momento è tutto un bacio morbidosi e morbidosi vi aspetto sui prossimi video sul canale